Ringrazio per essere intervenuti stasera, a nome del Centro Culturale Shalom di Abbiategrasso abbiamo proposto per la cittadinanza di Abbiategrasso e diciamo anche per l'area circostante un incontro dal titolo L'Uomo e la ricerca dell'infinito, nell'anno della fede e l'attualità della sfida di Postoieschi abbiamo avuto l'onore di invitare Tatiana Casartina che è una specialista di teoria e storia della letteratura è direttore del dipartimento di teoria della letteratura e presidente delle commissioni per lo studio di Postoieschi presso l'Accademia di Scienza Russa accompagnata dalla dottoressa Iona Mazzola che farà da interpreta e traduttrice avremo qua con noi anche il professore Gianni Mereghetti che ci aiuterà a tracciare le fila di questa serata che si innesta in un percorso che il Centro Culturale Shalom di Abbiategrasso vuole proporre ad Abbiategrasso nell'anno della fede, uno dei primi di una serie di appuntamenti che faremo nel corso di quest'anno prima di cominciare volevo portarvi i saluti dell'assessore della cultura che non è potuta essere presente questa sera ha detto di salutare e ringraziare per l'iniziativa del Comune che ha anche gentilmente concesso il patrocino per l'evento e ci ha ospitato nella sala consigliare prima di cominciare vorremmo regalare e offrire a tutti voi i nostri ospiti un canto dopodiché cominceremo con il dialogo con la professoressa Casatti Grazie 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 Così non riesco a stare nel piccolo o nel grande, se non senza misura, dando la mano a te. Sai tu cosa mi chiedi di dare la mia vita, restare senza niente, in cambio di ogni istante. Sono nata amante del tuo amore, così non so volere quel che non vuoi per me, così non so più amare se tu non ami me. Sai tu cosa mi chiedi di offrire il mio peccato, tutto quel che ho sbagliato, senza un vero perché. Sono nata in te, morta e risorta, così già perdonata, ti chiedo ancora vita, così già liberata, non farmi finire mai. Sai tu cosa ti chiedo, che ogni sparir sia spento, d'ogni respiro e tempo, l'eterno accento e il canto. Siamo partiti da un'urgenza di vita, come quella che il canto che abbiamo appena sentito ha detto, ha cantato. Siamo grati a Tatiana Kazaskina di essere venuta alla Piategrasso e averci dato questa occasione, proprio nell'anno della fede, di andare a fondo di una delle personalità più significative di tutta la cultura mondiale, qual è Dostoyevsky. e per capire di più questa urgenza di vita, questa urgenza di vita che è dentro l'uomo, questa domanda che urge dentro l'uomo e che un tentativo di nichilismo ha pensato di cancellare senza riuscirci, perché questa urgenza di vita è continuamente ritornata. Io faccio alcune domande iniziali, poi vediamo anche nel dialogo che può essere, chiunque poi potrà intervenire. e volevo partire proprio dal tema del nichilismo. Oggi in Italia spesso abbiamo sentito parlare di desertificazione, che è il tentativo di cancellare l'uomo. E' interessante andare alle origini di questo, del nichilismo e di come Dostoyevsky identifica queste origini. dentro le nostre scuole, io sono un misero insegnante di Abbiate Grasso, spesso si cita quella frase di Dostoyevsky, che anche Sartre ha portato in Francia e in Italia, se Dio non esiste tutto è possibile. E' come questa illusione di una libertà, che cancellando Dio ci sia finalmente la libertà dell'uomo. Ma la storia, ma anche la vita personale ci presenta tutta un'altra vicenda, che cancellando Dio, l'uomo non si ritrova più. L'uomo si complica, la sua vita personale, la sua vita morale, diventa caotica, non trova più il bandolo della matassa. Ecco, la prima domanda che volevamo farle è questa, cioè di farci capire come Dostoyevsky vada a identificare il nichilismo e come ce lo descrive e quale sia l'attualità di questa descrizione di Dostoyevsky. Soprattutto. Perfetto. Soprattutto. Grazie. Buonasera, sono molto contenta che oggi siamo qui insieme e grazie per il bellissimo tema intorno al quale ci possiamo incontrare. E già la prima domanda è molto importante. In un certo senso il nighilismo con cui si tratta. In un certo senso il nighilismo come corrente filosofica si autospiega, spiega da se stesso la sua origine. Visto che nell'arabice stessa della parola è inclusa questa parola, niente. Cioè risulta che partendo dalla negazione di Dio noi giungiamo alla negazione di tutto. E quindi non ci rimane niente. E Dostoevsky che ha riflettuto molto sul problema del nighilismo ci mostra in che modo questo accade? In un bellissimo testo del diario di uno scrittore. Dostoevsky è la lettera di un suicida. un suicida immaginario che come è tipico dei personaggi di Dostoevsky è molto coerente nel e pensare a tutte le conseguenze delle sue azioni. Inizia dal fatto che nega l'esistenza di Dio. E poi continuo a pensare, continuo a ragionare, se visto che non esiste Dio allora non esiste neanche la mia immortalità personale. In sostanza soltanto iniziando a vivere, iniziando a entrare nei processi di vita. a me viene proposto, dice il personaggio di Dostoevsky, di scomparire. Ma ammettiamo che io possa fare conto sull'immortalità nell'umanità. Cioè, diciamo che l'umanità sia un organismo fatto così, una serie infinita di generazioni. E tutti, che lavorano per la vita dell'umanità, e che in questo modo possa conquistare la sua immortalità. Ma, continua il personaggio di Dostoevsky, il fatto è che non c'è neanche questo. Perché anche l'umanità è mortale così come è mortale ogni uomo. Questo ci è stato dimostrato dalla scienza nel diciannovesimo secolo. Che ha parlato della morte del sole, quindi della morte del sistema solare. E, come spiega l'eroe di Dostoevsky, in questo cielo rimarranno, potranno volare soltanto delle pietre nere e fredde. Il sole si spegnerà e il nostro mondo si congelherà, si raffredderà. Questo è, in sostanza, il futuro del sistema solare, che di per sé è soltanto una goccia nell'universo. Votranno voleranno delle pietre nere e fredde e basta. Questa è la fine dell'umanità, per la cui felicità mi è proposto di lavorare. Ma, allora, perché? Per quale ragione? E che differenza c'è se questa fine avverrà tra mille anni, duemila anni o domani? La questione non è nella misura degli spazi temporali. Ma il fatto è che questo comunque finirà E che tutto il mio presupposto lavoro per il bene dell'umanità comunque andrà a finire in questo buio e in questo gelo. Ma anche se mi andasse bene l'idea che comunque la vita possa continuare abbastanza a lungo. Ma anche adesso che cosa mi propone questa natura di cui pare che io sia il figlio? Mi propone un circolo, come un moto circolare di esseri che si divorano a vicenda. Che io con la mia coscienza Non posso riconoscere né come buoni né come degni. E anche io sono parte di questo circolo e sono obbligato come esserne parte. E sento che la mia ragione viene continuamente abbastanza. E sento che la mia ragione viene continuamente abbassata. E in questo giro, in questo circolo vizioso, io butto via, scaccio quelli che sono davanti a me. E quelli che verranno dopo di me scacceranno da parte me. E in modo assolutamente coerente il personaggio di Dostoevsky conclude dicendo se questo è il mondo che mi viene proposto A mio avviso è meglio bruciare tutto. Perché non vale la pena esistere. Ma visto che io non posso bruciare tutto Allora io uso la possibilità che è data a me e cioè distruggo me stesso. E mi rifiuto di vivere in questo mondo. Questa per Dostoevsky è un ragionamento assolutamente coerente e logico che dovrebbe fare ogni nichilista. E se i nichilisti non fanno questo ragionamento e non traggono le conseguenze di questo ragionamento. È soltanto perché a un certo punto si rifiutano di ragionare in modo coerente e seguono le loro sensazioni e i loro sentimenti che gli permettono di esistere in questo mondo e anche sperare nel progresso e nel miglioramento di questo mondo contro qualsiasi logica. E questo significa una cosa sola che il cuore di un nichilista non sta insieme alla sua ragione. Che il suo cuore, nonostante la ragione, conosce qualcosa di più. E quindi secondo Dostoevsky in questo modo il nichilista continua a vivere proprio a misura di quanto non è un nichilista coerente. Grazie. Questa prima risposta mi ha fatto venire in mente un dialogo proprio di questa mattina a scuola. Non si parlava di Dostoevsky, si parlava di Freud. E mi ha molto colpito che un ragazzo di fronte, perché qui c'è anche un tema che può interessare la questione di Dostoevsky, cioè come fa l'uomo a trovare la formula di se stesso. E mi ha molto colpito questo ragazzo, cito l'esempio, perché me l'ha fatto venire in mente quello che lei ha detto. Questo ragazzo che insistentemente obiettava alla analisi di Freud. Freud è ritenuto interessante, ragazzi. Quando io spiego Freud, insomma, colpisce, no? E lui continuava a dirmi, ma non basta, non basta spiegare, non mi basta sapere che io sono il prodotto di complessi. Non mi basta. C'è qualche cosa di più. Non mi basta nemmeno l'analisi psicologica. Se è fallita l'analisi scientifica, non mi basta nemmeno l'analisi psicologica. Ecco, mi ha fatto venire in mente, perché è la domanda che voglio porle, rispetto alla questione di come fa l'uomo a ritrovare la sua formula. Dostoevsky usa questa modalità, cioè come la ricerca di se stesso. L'uomo della cultura europea ha tentato molto strade per cercare se stesso, per resistere al nichilismo e cercare qualche cosa per se stesso. Questa domanda è viva ancora oggi. Come possiamo percorrere questa domanda? Dostoevsky fa questa domanda a se stesso quando è ancora un ragazzo di 17 anni. E si ripete questa domanda già alla soglia della morte. A 17 anni scrive. Non c'è niente di più degno di onore, non c'è niente di più importante dell'occuparsi dell'enigma che è l'uomo. Io voglio dedicare a questo la mia vita perché voglio essere un uomo. E alla fine della vita lui quasi come compito di tutta la sua opera definirà questo compito con queste parole. trovare l'uomo nell'uomo. In sostanza se ne ando conto di tutto la ricerca del nostro tempo è limitata dal fatto che noi cerchiamo di capire l'uomo e non di trovare l'uomo nell'uomo. E qui evidentemente c'è un qualche problema molto grande, molto serio. Espresso proprio in questo modo in cui Dostoevsky pone la questione. Cioè evidentemente l'uomo non in tutto è l'uomo. Cioè l'uomo può essere molto meno di se stesso, molto meno se stesso. L'uomo può non essere se stesso. E questa probabilmente è una situazione che conosciamo tutti. L'uomo può essere all'improvviso e inaspettatamente molto più in alto, molto più grande di se stesso. E in questo momento tutti quelli che contemplano questo quadro quello di un uomo che supera, che sembra superare se stesso Sembra che all'improvviso, alla fine, l'uomo davanti ai nostri occhi acquista la sua vera dimensione. Cioè quando noi vediamo un uomo che è inferiore a se stesso, che non è degno di se stesso capiamo che non è lui. Mentre quando vediamo un uomo che all'improvviso supera la nostra aspettativa All'improvviso capiamo che quello è proprio lui. il vero lui. Cioè l'uomo è una creazione così strana che è se stesso proprio quando è a quei livelli dove si va a ritrovare in modo inaspettato per se stesso e per chi lo osserva. Ma in questa espressione di Dostoievski quando dice trovare l'uomo nell'uomo evidentemente è nascosta ancora un'altra frase trovare l'uomo nell'uomo se la seconda parte, la seconda parola uomo la scriviamo con la lettera maiuscola perché noi tutti sappiamo che l'uomo nella misura in cui è vero ci è stato rivelato una volta e questo è Cristo ma non è un ideale lontano e infinitamente irraggiungibile ma è un uomo che già una volta è stato presente sulla terra e che in questo modo ha stabilito i parametri della vera esistenza dell'essere. Dostoievski ha detto un'altra frase molto interessante in città in città è l'antica idea della letteratura dei padri sulla kenosis della divinità come Dio si è ridotto, si è diminuito per poter entrare nel nostro mondo cioè Cristo ha rivelato Dio esattamente in quel volume per cui al nostro mondo poteva essere accessibile e all'uomo poteva essere accessibile e perciò in quella misura Dio può essere presente in ogni mondo e proprio per questo che alla fine del Vangelo di Marco sarà detto che l'inizio della fede cristiana nell'uomo lo vedremo dal fatto che che curerà i malati risusciterà i morti e che se berrà qualcosa di, qualche sostanza mortale non gli farà del male questo secondo San Marco è il nuovo cristiano il cristiano, uno che è appena diventato cristiano e Cristo nel Vangelo ha detto la stessa cosa chiunque crederà in me quello che io ho fatto lo farà e farà anche di più e secondo Dostoevsky questa è la misura dell'uomo e questo che significa trovare l'uomo nell'uomo e questo uomo con la lettera maiuscola per Dostoevsky è inestirpabile, ineliminabile dall'uomo non può mai essere eliminato perché Cristo è colui che non inganna e Cristo ha promesso nell'apocalisse di San Giovanni Apostolo se stavio le dure e stuccio ecco io sto alla porta e busso e se qualcuno mi aprirà io entrerò e mi siederò a mensa con lui cioè Cristo ha promesso che lui busserà e che non si allontanerà da quella porta che è ognuno di noi perché aspetterà fino all'ultimo che noi lo lasciamo entrare nel nostro cuore e in questo modo gli permettiamo nuovamente di agire attraverso di noi in questo mondo grazie quello che ha detto mi ha fatto due suggestioni due suggestioni che la prima mi permetto di riprendere il dialogo di questa mattina perché mi ha molto illuminato quello che ha detto perché a un certo punto questo ragazzo ha detto No Freud, San Francesco e io sono rimasto colpito perché è la prima volta nella mia vita che mi succede che un ragazzo mentre parliamo di Freud mi citi San Francesco mentre quello che adesso lei ha detto è molto interessante perché quando lei ha parlato di questo uomo che è in ogni uomo che è evidente e che quindi non è una spiegazione che uno può dare della vita ma è ma io gli ho detto ma perché San Francesco? e lui mi ha detto perché San Francesco è felice? e io sono rimasto lì perché effettivamente quello che stava dicendo lei che è l'uomo nell'uomo è un'evidenza questa era la prima suggestione per cui mi interessa molto capire anche per la vita di Dostoevsky questo che cosa ha significato che cosa che tipo di esperienza lui ha fatto la seconda è l'ultima cosa che stava dicendo questa suggestione della porta cioè il fatto che Cristo è quella porta che è ognuno di noi che cosa significa che Cristo diventa quella porta che è ognuno di noi questa è una possibilità che Cristo dà prima di tutto a me e poi al mondo di svelarsi di continuare a svelarsi di continuare a comunicarsi è bellissimo perché quel ragazzo stamattina si sia ricordato di San Francesco perché San Francesco è effettivamente quella persona che nella storia del cristianesimo occidentale e probabilmente del cristianesimo in generale per la prima volta ha mostrato letteralmente su se stesso che cosa significa la felicità cristiana perché la felicità cristiana in lui è risultata essere letteralmente l'incarnazione in se stesso dell'immagine di Cristo che si è espressa nelle stigmate cioè San Francesco è riuscito così tanto a permettere a Cristo di passare in questo mondo attraverso se stesso che al mondo sono state nuovamente manifestate le sue piaghe capaci di curare e San Francesco è diventato come un'icona della passione, delle sofferenze di Cristo e le sue piaghe che per lui erano dolci erano allo stesso tempo piaghe che erano terribilmente tormentose cioè questa continua compassione vissuta insieme a Cristo da parte di San Francesco il suo entrare nella pienezza della sofferenza di Cristo ha potuto fare fiorire questo movimento del francescanesimo ha come rinnovato la radice del cristianesimo e in questo senso continuando quello che ho detto rispondendo alla domanda precedente voglio ricordarvi delle icone di San Francesco che ci sono in Italia in particolare a Firenze in cui è raffigurato come più di Cristo è un'immagine così grande di San Francesco e sopra di lui è raffigurata molto più piccola l'immagine di Cristo e la prima impressione che dà è quella di un po' scandalo e quando noi siamo andati alla Galleria degli Uffizi con i nostri studenti e ci siamo fermati davanti a questa icona loro sono rimasti profondamente scioccati e ci hanno detto come è possibile cosa succede? in sostanza mettono un uomo anche se un uomo così grande al posto di Dio e anche io all'inizio sono rimasta colpita ma anche colpita dall'altra parte dalle loro domande per cui dalla necessità di comprendere e di rispondere lì gli ho ricordato questa frase colui che crederà in me farà le stesse cose che ho fatto io e farà anche di più cioè Cristo non ci ha chiamati a essere meno di sé ma in un certo senso ha voluto che noi fossimo più di lui e in questo senso noi tutti e presi nel nostro insieme e singolarmente siamo il corpo di Cristo in questo mondo e siamo le membra di Cristo in questo mondo cioè coloro attraverso i quali lui continua ad agire e se soltanto i cristiani si fermano e restano cristiani questa azione di Cristo nel mondo non si blocca e continua sempre è proprio in questo senso che noi dobbiamo pensare e parlare della Chiesa come corpo di Cristo non è soltanto quel corpo in cui scorre il suo sangue e si rinnova la sua carne la carne di Cristo attraverso l'eucaristia ma è quel corpo in cui si rinnova la carne e scorre il sangue di Cristo perché l'azione di Cristo in questo mondo possa continuare e ingrandirsi continuamente rafforzarsi continuamente perché in ogni momento successivo possa creare e fare di più di quello che ha potuto fare un tempo al momento della sua venuta cioè il cristianesimo non è qualcosa rivolto all'indietro come la contemplazione del grande Dio che a un certo momento è sceso sulla terra con la coscienza della nostra impotenza davanti al suo volto ma il cristianesimo è questo unico corpo di Cristo che continua sempre più potentemente a agire nell'universo grazie molto interessante questo ultimo aspetto perché ci permette di entrare in una c'è in questo di più quello che lei ha detto che è una promessa di un di più perché molto spesso sembra come che il cristianesimo sia un di meno sia io ne parlo anche per il rapporto che ho con i giovani come l'impressione che il cristianesimo sia un dir di no non è questo non è questo non devi fare quest'altro non devi fare quest'altra cosa mentre mi sembra che venga fuori una sfida molto più interessante che nel cristianesimo ci sia una pienezza e capisco che per i giovani questa è la quello che attrae perché è di un di meno di qualche cosa del passato di qualche cosa che ha anche avuto tanta storia ma che oggi non sia un di più questo non non ci interessa ecco mi ha sempre per citare mi ha sempre colpito una ragazza settimana scorsa che non parlando di Freud parlando di Platone quindi mi ha colpito che parlando di Platone lei ha tirato fuori un tema con una certezza che forse può trovare in Dostoievski un riverbero che è il tema della bellezza del vivere e anche qui lei metteva a confronto scusatemi Socrate e Platone e diceva a me non basta sapere di poter dialogare con gli altri e che vivere per vivere bene a scuola si può dialogare con gli altri io preferisco qualcuno che mi dia una bellezza preferisco la luce di Platone perché di sapere che io vengo a scuola e posso dialogare che il massimo della vita sia dialogare non mi riempie la vita mentre mi affascina di più uno che mi dice che c'è una luce e che posso seguirla questa era l'immagine legata a Platone però è interessante rispetto alla questione della bellezza cioè di che questo di più di cui lei parla è una bellezza del vivere che cosa significa per Dostoievski cosa significa per noi questo perché per un di meno non potremmo muoverci grazie e io sostengo molto voglio molto sostenere quello che ha detto sui problemi che vengono ai nostri ragazzi che cercano nel cristianesimo non quello che noi gli proponiamo e hanno assolutamente ragione a cercare nel cristianesimo non quello che noi gli proponiamo perché il cristianesimo ha quindi quando noi iniziamo a a dire non fare questo 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 e quell'altro e sarai un bravo cristiano i ragazzi subito in questo vedono o qualcosa di falso o un errore e hanno assolutamente ragione perché qui esiste una radicale che vediamo che in un momento peristali замечare perché qui c'è qualche spostamento che noi a un certo punto abbiamo smesso di riconoscere non abbiamo più visto non fare questo 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 quell'altro cioè il fatto che l'uomo accetti su di sé un'intera serie di limitazioni costruzioni non è per nulla il fine della vita cristiana è semplicemente uno strumento della vita cristiana è assolutamente un altro e visto che noi a volte ci dimentichiamo di parlare ai giovani di questo scopo loro alla fine abbandonano la chiesa anche se sono cresciuti al suo interno nel suo seno alla ricerca di quello scopo che noi ci siamo dimenticati di comunicarle e se ne vanno cercando le strade più diverse della vita alla ricerca di scopi che in realtà esistono davvero soltanto all'interno del cristianesimo e questo scopo è la trasfigurazione della vita e la trasfigurazione del mondo perché il cristianesimo non è per che il cristianesimo non è che il cristianesimo non esiste affatto perché il mondo continui 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 nell'aspetto nel sembiante che ha adesso la venuta di Cristo ci ha mostrato con assoluta evidenza che il mondo è stato ferito se non ci siamo ancora resi conto che il mondo non esiste nel senso che il mondo esiste non nell'aspetto in cui era stato creato che il mondo deve essere o riportato alla sua condizione dell'inizio o cioè restituito la sua condizione dell'inizio o o o o trasfigurato in avanti cioè in un modo o nell'altro deve essere ristabilita l'unità del mondo con il suo creatore cioè a noi è stato spiegato che noi ci troviamo al centro di una catastrofe che è come se fossimo in un aereo che è caduto ma nel processo in cui il cristianesimo è entrato nella storia il cristianesimo è entrato soprattutto nella storia dello Stato e la vita dello Stato è sempre un tentativo di conservare quello che si ha il cristianesimo il cristianesimo è come se fosse una barca per navigare su questo aereo e quando il cristianesimo è capace di andare su una strada o di navigare i cristiani pensano che vada già tutto bene funziona e si sono dimenticati che il loro compito è quello di fare in modo che l'aereo ricominci a volare e che andare per strada o in mare su un aereo è una cosa ridicola questo è in sostanza ciò in cui consiste il ristabilire la bellezza del mondo e della vita cristiana in questo impeto verso la trasfigurazione del mondo e a riportare il mondo a quella condizione in cui Dio guardava ogni giorno l'opera delle sue mani e diceva questa è cosa buona è bello perché la bellezza è immanente a questa condizione iniziale del mondo e non scompare dal mondo per quanto brutto il mondo non renda se stesso come un bellissimo volto può essere ferito rovinato da delle cicatrici ma anche attraverso queste cicatrici la sua bellezza originale si vede il nostro compito è quello di togliere queste cicatrici dal volto del mondo e cosa sono queste cicatrici sono letteralmente delle cicatrici perché cosa è una cicatrice è un tessuto di riunificazione che compare al posto che prende il posto della pelle è quello che separa che divide l'unità della pelle del volto e la cicatrice è la divisione che c'è nell'universo tra tutte le cose del mondo la separazione tra gli uomini in cui noi adesso viviamo e continuiamo a vivere e anche думiamo che è anche christianità e noi questa esistenza degli uomini nella divisione in cui noi continuiamo a vivere e pensiamo che sia il christianismo mentre нам è chiaro che будьте единым телом mentre ci è stato detto chiaramente siate un corpo solo un corpo solo unito dall'amore crederanno riconosceranno che siete i miei discepoli se vi amerete tra voi tra voi e questo invito di christo Dostoevsky lo ripete continuamente nelle sue opere christo e nel modo più potente probabilmente risuonano i fratelli Karamazov romani che si conclude con questa nuova creazione della chiesa fatta proprio dai ragazzi bambini ognuno dei quali è chiamato a essere un uomo nuovo e portare questa novità questo rinnovamento dell'umanità nel mondo perché attraverso di lui possano riceverlo tutti quelli che stanno intorno questo è il processo di спасione e красità questo è in sostanza il processo della salvezza del mondo attraverso la bellezza quando questo явление di personale di красità in si quando questa manifestazione della bellezza originale dell'uomo in sé a questa bellezza originale è l'immagine di dio quando questo processo diventa un movimento ininterrotto quando ognuno è preso da questo e lo scopre in sé perché noi siamo avari rispetto alla bellezza nel senso che la vogliamo ma non capiamo una cosa non possiamo appropriarcene dal di fuori appena noi ci appropriiamo della bellezza dal di fuori questa si scompone e si corrompe e sparisce davanti ai nostri occhi l'unico modo di acquistare una bellezza che non si corrompa è quella in risposta alla bellezza che ci si manifesta in un altro attraverso un altro di aprire scoprire questa bellezza in noi stessi grazie io andrea avanti se c'è qualcuno che vuole fare una domanda posso dire una cosa perché mi ha c'è una mano dai è la ricerca dell'uomo nell'uomo è innanzitutto la ricerca dell'uomo nell'uomo e quando questa ricerca è coronata dal successo noi vediamo all'improvviso davanti a noi questo splendore infinito della persona che diventa infinitamente affascinante per quelli che la circondano e che predica il cristianesimo semplicemente nel suo apparire davanti alle altre persone ma si va un signor un signor Paolo Masperi che lo ringraziamo per la sua presenza mi ricordo quando studiavo la mitologia greca mi ha sempre colpito l'emblema di Icaro che andava verso il sole e quello fu l'origine del suo fallimento era come un uscire da se stesso per andare verso qualche cosa che lo abbagliasse qui sempre il tema della luce ritorna ebbene quello che la mitologia greca ci aveva insegnato nella rivelazione cristiana si è realizzato perché a questo adelito dell'uomo dall'uscire da se stesso per andare verso è venuto incontro la rivelazione che te lo insegna non solo nel momento della creazione ma nel momento della salvezza che Gesù Cristo è venuto proprio a redimere in Gesù troverei proprio due elementi forti che sono direi determinanti primo è il rimanere e il secondo è il volto il primo è il rimanere sono entrambi Giovanni che dice rimanete in me se rimanete in me porterete molto frutto eccetera quindi questa dimensione di assimilazione l'uomo si lascia amare da Cristo ed entra davvero nella chiedenza del volto il volto lo trovo proprio nella manifestazione della trasfigurazione tutti e tre Matteo, Marco e Luca ne parlano e Marco ne parla anche con un accento dicendo che il volto di Cristo era diventato così splendido che nessun lavandaio riesce a renderlo così bello ecco a me pare davvero importante che la bellezza che Cristo stesso ci ha rivelato nella compresenza della storia nella presenza di Mosè e di Elia voglio dire che quello che è avvenuto una volta lo possa ancora oggi realizzare nell'oggi attraverso la forza dello spirito che traduce nel qui ed ora un evento che è passato grazie a lei grazie a lei è un'aggiunta bellissima a proposito della bellezza di cui ha parlato prima volevo farle una domanda sulla definizione sul progetto di arte che lei ha dato un paio di anni fa parlando di una differenza tra Dostoevsky e postore e mi ha corpito molto che lei definiva l'arte come una conoscenza in grado di comunicarci un'esperienza non perché ci trasmette delle informazioni ma perché ci fa rivivere quella stessa esperienza ce la fa rivivere l'arte è infatti sono parole sue un concentrato di esperienza umana è il deposito comune è un luogo in cui l'esperienza dell'uomo intero è conservata allora innanzitutto mi colpisce tantissimo che lei abbia definito l'arte come una forma di conoscenza quindi come una esperienza realmente è possibile e allora a questo proposito ecco la domanda anzi le due domande la prima è questa se l'arte in quanto possibilità di fare esperienza è una via privilegiata assolutamente assolutamente privilegiata per conoscere se stessi e la seconda domanda è questa quando a una comunità a un popolo sono donati dei geni antistici come lo è stato Dostoevsky per la Russia o Dante per l'Italia o Shakespeare per l'Inghilterra allora vuol dire che questo popolo potrà avere più facilmente consapevolezza di chi è lui a quale destino è chiamato qual è l'altezza della sua coscienza e viceversa se a una comunità questo genio non è donato dovrà fare molta più fatica grazie grazie è una domanda molto interessante e anche io voglio fare riferimento a una discussione che ho avuto oggi al pomeriggio mentre stavamo venendo qua da Modena in macchina abbiamo parlato dell'importanza che per l'uomo contemporaneo ha il calcio e in macchina abbiamo parlato solo di una parte di un aspetto di questa questione perché è perché buono perché è una cosa negativa che porta fuori dalla vita perché in campo corrono chiede quante persone 11 11 stanno attaccati stanno attaccati e vivono la vita di questi 11 giocatori uscendo uscendo in quel momento dalla propria vita ma lì succede anche un'altra cosa che in modo molto più forte ancora che nel calcio accade quando in una comunità c'è un genio perché quei calciatori non potrebbero giocare nel modo in cui giocano se questi milioni non non si siedono nel stadio se quegli altri milioni di persone non fossero attaccate alla tele o non siedono allo stadio e non riversassero le loro energie e le forze cioè quelle 11 persone nel momento della partita sono come sulla punta della freccia della nazione cioè il l'unico 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 cioè quel punto che arriva a colpire grazie alla forza che gli arriva da tutta la freccia perché sulla punta della lancia arriva la forza di tutta una lancia questo è quello che si può dire di un genio in una comunità è come la coscienza è come la coscienza è come la voce di quella coscienza che per lungo tempo e in modo potente si è sviluppata all'interno di quel popolo e in questo senso non possiamo parlare dell'arte come di un privilegio di certe particelle di certe unità potremmo parlare perché l'uomo non sono degli esseri divisi è un corpo unico e ce lo ricordano continuamente già da 2000 anni ma noi non riusciamo affatto a ricordarcene cioè questo comparire del genio è un'azione comune comunitaria molto potente che deriva da un'esperienza comune che si è accumulata a cui il genio dà forma creando così questo scrigno questo tesoro di esperienza se ho lasciato da parte qualcosa di quello che ha chiesto grazie c'è spazio ancora per una domanda io ho un'altra però che è un po' valizio che è linguistica perché dipende molto dallo stile di movimento su YouTube in russi io ho letto su internet che nel produrre la frase della bellezza che mi vuole è un po' di essere salvato dalla bellezza è un po' questo è un po' questo è un po' che è un po' questo è un po' tu bravo quando hanno ritenuto che Dio che Dio era la bellezza rispetto a quale delle due frasi rispetto al fatto che il mondo sarà salvato dalla bellezza è diventata quella per cui hanno detto che Dostoevsky rifiuta che Dostoevsky rifiuta Dio sostanzialmente che ci può essere una considerazione di menzogna di Dio ovvero di manzogna che ciò è una cosa che si chiama che è che si chiama che è che è che è che è che è che è esiste una traduzione così dove hanno messo pace al posto di mondo io incontro adesso per la prima volta questa interpretazione e visto che questa frase comunque esiste nel contesto di un romanzo lì è abbastanza evidente che si tratta proprio del mondo un'ultima domanda una domanda perché mi è molto colpito quello che lei ha detto perché delle cicatrici che la questione del tessuto di riunificazione perché noi molto spesso abbiamo ma anche nel rapporto col mondo giovanile l'idea che la cicatrice sia negativa e che quindi come tale bisogna aspettare che passi, bisogna eliminarla mentre è interessante questa immagine che lei ha detto perché la vita è fatta di cicatrici la vita è fatta di ferite è interessante questa idea del tessuto di riunificazione che la bellezza, Cristo, la Chiesa agisce innanzitutto sulle cicatrici cioè creando una riunificazione e questo mi ha molto colpito quello che lei ha detto perché sfida anche un modo di essere cristiani per cui è come se si potesse iniziare ad essere cristiani dopo quando sono passate tutte le cicatrici mentre quello che lei ha detto è scoprire questa riunificazione che Cristo fa mi interessa se potesse approfondire questo aspetto perché è molto esistenziale e molto vero sì, il volto nel mondo nella caduta del peccato originale è stato è stato tagliato come fatto e sostanzialmente l'inizio della salvezza è l'inizio della salvezza è l'inizio della salvezza la riunificazione del rimarginarsi di questi tagli, di queste ferite la riunificazione di quello che era spezzato, che era distrutto ma il fatto è che per noi è molto difficile comprendere che un pezzettino staccato, soprattutto se non ci piace molto ha anche questo bisogno di essere riunificato, riattaccato è come se noi ci dimenticassimo che noi non possiamo salvarci da soli e che il nostro compito invece è proprio quello di ristabilire l'interezza dell'universo e in questo senso mi piacerebbe finire con una fiaba che mi piace molto e che parla proprio di questo la vanità di questo nostro tentativo di salvarci senza alcune delle parti è la fiaba su una volpe che era inseguita da dei cani e che scappava da questi cani e questa volta scappava con tutte le sue forze e si è allontanata dai cani e riuscita ad entrare nella sua tana e aveva iniziato a guardare le membra del suo corpo e aveva iniziato a chiedere ad esempio le gambe gambe, gambe, che cosa avete fatto voi mentre io cercavo di salvarmi dai cani? zampe scusate e le zampe rispondono noi correvamo con tutte le nostre forze perché? per portarti lontano dai cani e allora lei dice brave, benissimo, brave zampe e occhi, occhi, che cosa avete fatto? e noi guardavamo con tutte le forze per trovare i sentieri perché tu potessi scappare dai cani bravi anche gli occhi naso, naso, e tu che cosa hai fatto? e io niochavo, niochavo, e cercavo di trovare i porti e io annusavo, annusavo per cercare il sentiero più breve perché i cani non potessero trovarti e seguire i nostri ucchi, anche le orecchie sono state brave e alla fine chiede, coda, coda, e tu che cosa hai fatto? e la coda risponde io ho cercato di impigliarmi a tutte le arbusti che abbiamo trovato per strada perché tu non corresti così veloce e perché i cani ti raggiungessero allora la volpe si arrabbia tantissimo allora la coda tira fuori la coda dalla tana e dice ai cani mangiatevela e come potete capire dietro alla coda si sono mangiate tutta la volpe anche se nel mondo noi concepiamo qualcosa, sentiamo che qualcosa è come opposto, che lotta contro la nostra salvezza come questa parte cattiva della creazione come questa parte cattiva della creazione Dostoevsky dice come Dostoevsky parla che il che già è arrivato a Cristo di come chi è già giunto a Cristo esiste per quelli che non sono ancora arrivati a Cristo cioè esiste non contro di loro ma a favore loro e per loro per diventare per loro questa strada che permette anche a loro questa riunificazione e per questo il compito del cristiano è sempre di lottare non contro ma a favore a me sembra addirittura che questo sia il segno per cui si possa distinguere e riconoscere un vero cristiano grazie 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 ancora di cuore Tatiana Casatkina e Elena Mazzola per questa possibilità di dialogare insieme su questi temi e grazie anche il professor Gianni Mereghetti che ci ha condotto in questo percorso vi do soltanto qualche piccolo avviso in fondo alla sana è allestito un banchetto dei libri dove si possono acquistare i volumi emerenti ai temi della serata in fondo alla sana è allestito un banchetto dei libri dove si possono acquistare i volumi emerenti ai temi della serata grazie 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 a tutti